Se vi piace il film Titanic, siete rovinati, perché vi hanno inserito furbescamente il mindset della povertà e della mediocrità. Trasmettono questo messaggio, i ricchi sono quelli stronzi e i poveri sono quelli bravi. Questa menzogna viene trasmessa in tutti i film e cartoni animati. Nel film Titanic, cosa fanno i ricchi? Non aiutano gli altri, calciano i poveri, se ne approfittano, non amano e non si divertono, perché nel film facevano vedere che i ricchi in prima classe si annoiavano, mentre i poveri che erano in quarta classe, uno sopra l'altro, si divertivano, ballavano, si aiutavano tra di loro e si amavano veramente. Quindi quando vedi quel film, dici, se io divento libero finanziariamente, diventerò cattivo. Tu non te ne accorgi, ma te l'hanno messo dentro, pieno di emozioni anche il film ovviamente, quindi la tua conclusione è stata libertà finanziaria uguale cattiveria. Invece vi garantisco che è esattamente il contrario, perché per diventare liberi finanziariamente dovete aiutare le persone. Più persone aiuterete e più liberi finanziariamente diventerete.